Un posto al sole, una brutta sorpresa per Michele, svolta tra Anita e Vittorio Anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018, la clamorosa decisione di Franco. Cancelletto Un posto al sole, la soppopera più longeva della televisione italiana in onda tutti i giorni su Rai 3. Regalerà, anche la prossima settimana al proprio pubblico, puntate dense di colpi di scena e novità inaspettate. Palazzo Palladini a Posillippo, infatti, si troverà di fronte ad un entusiasmante ritorno, quello di Franco, e sarà teatro dello scontro tra Sandro e Roberto, a causa delle manovre di Alberto. Vediamo, nelle anticipazioni, cosa accadrà negli episodi in onda dal 5 al 9 marzo. Franco torna a casa, Gaetano Prisco inchiodato dalla polizia. Al centro delle ultime anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate che vedremo la prossima settimana ci sarà ancora una volta Franco. L'uomo, dopo aver rischiato di finire in carcere per l'aggressione a Gaetano Prisco, finalmente, proprio in occasione della festa della donna, organizzerà il suo ritorno a casa, da Angela e Bianca e sarà costretto a salutare l'amico Peppino. Poco prima i poggi verranno messi al corrente della decisione, video, di Franco e Angela di sposarsi. Sul fronte investigativo, intanto, assisteremo al ritorno in scena di Ciro, che fornirà alla polizia le prove per inchiodare l'usuraio Prisco. Finalmente il criminale pagherà per le sue colpe. Michele conosce l'editor di Silvia. In casa Saviani, intanto, Silvia e Teresa saranno eccitatissime per aver conosciuto l'editore Emanuele Roversi, che assiste la scrittrice nella stesura del seguito del suo romanzo. Le anticipazioni rivelano che, però, l'incontro tra Michele e l'uomo non avrà l'esito auspicato da Silvia e il giornalista, accortosi del feeling tra lui e la moglie, video virgola si dimostrerà insolitamente geloso. Anche Othello non sarà entusiasta dell'ingresso dell'editor nelle loro vite. Intanto, Roversi, svelerà un lato misterioso e inaspettato. Il segreto di Luca Grimaldi. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Vittorio deciderà di gettare la spugna con Anita e si convincerà che l'amore è una fregatura, ma proprio in quel momento la loro relazione subirà una svolta imprevista e i due saranno travolti dalla passione. Successivamente, però, la ragazza si dimostrerà distante e il figlio di Guido imputerà a Luca Grimaldi il suo atteggiamento. L'ex poliziotto, però, nasconde un clamoroso segreto che riguarda proprio Anita. Il piano di Alberto e Veronica scatena lo scontro tra Sandro e Roberto, Nico e Susanna in crisi. Sul fronte affaristico, nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Sandro sempre più irritito da Alberto, che continuerà ad essere motivo di forte attrito con il padre Roberto. Intanto, Marina scoprirà con disappunto che l'ex marito ha agito alle sue spalle circa l'ordine di Veronica Viscardi. Nico litigherà pesantemente con Susanna, mentre Rossella soffrirà per la distanza impostale da Diego, il quale rivelerà al padre Raffaele i sentimenti che lo legano alla ragazza. Cancelletto un posto al sole anticipazioni. Ciao!